Benvenuti al canale Annunzio di Punto Questo è Ecco il Dolce Alziamoci le maniche ed iniziamo con la preparazione di oggi Come prima cosa prendiamo le forme del nostro dolce e andiamo a mettere burro e farina Dopo aver messo a burro andiamo ad infarinare lo stampo Fatto questo iniziamo la preparazione vera e propria Prendiamo una ciotola Mettiamo all'interno le uova Diamo una piccola sbattuta E aggiungiamo lo zucchero E mescoliamo fino a far sciogliere un po' lo zucchero Completato questo primo passaggio ci spostiamo le fornelli Quello che facciamo adesso è Prendere un pentolino Mettiamo il burro Nel fornello più piccolo a fiamma bassa Aggiungiamo il cioccolato E facciamo sciogliere il tutto mescolando Quando ho quasi sciolto Spegniamo il fornello Continuando a mescolare Continuiamo a mescolare per un minuto o due Il cioccolato che abbiamo appena fatto sciogliere Passati uno o due minuti Diamo una leggera mescolata alle uova e allo zucchero E andiamo ad aggiungere la farina Anche qui continuando a mescolare Aggiungiamo il cioccolato e il burro appena sciolti Mentre mescoliamo E adesso aiutandoci con un mestolo Andiamo a riempire le nostre formine Aggiungiamo il cioccolato Riempite le formine con la preparazione, accenderemo il forno a una temperatura di 200 gradi. Prendiamo una teglia con carta forno e mettiamo il nostro dolce all'interno della teglia. E andiamo ad infornare nell'ultimo cassetto del forno mentre questo si sta riscaldando. Accorreranno circa 10-15 minuti. Nel frattempo continuiamo la preparazione ai fornelli. Quello che abbiamo appena fatto è mettere sulla stessa pentola di poco fa un po' di burro, un po' di panna e 100 grammi di cioccolato. Facendo sciogliere questo a fiamma bassa. Continuando a mescolare. Continuiamo la preparazione sciogliendo il cioccolato bianco. Utilizzando il nostro sciogli cioccolato. Sono trascosti circa 15 minuti. Li abbiamo appena usciti dal forno e adesso li mettiamo a raffreddare. Prendiamo i nostri piatti dalla portata ed impiattiamo. E andiamo a mettere in alcuni il cioccolato sciolto con la panna e il burro. Andremo a completare con una granella di nocciole. Mentre le rimalenti andremo ad aggiungere un tocco di cioccolato fondente bianco. Che andremo a completare con delle gocce di zucchero caramellato. E i nostri vulcani del piacere sono pronti. Giusto il tempo di far asciugare la copertura sopra e sono pronti per essere mangiati. Fatto questo ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiare dolce.